Ok, ci prepariamo per l'ultima coreografia tutta per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per l'ultima coreografia tutta per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per l'ultima coreografia tutta per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per l'ultima coreografia tutta per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per l'ultima coreografia tutta per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per le gambe e i glutei. Ok, ci prepariamo per le gambe e i glutei.